Musica Bentornati all'appuntamento con Dentro il Consiglio Il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana Come il nostro solito troviamo tre argomenti in questo nostro incontro In primo piano, in apertura, parliamo delle residenze sanitarie assistenziali Il SIP per le distanze minime tra strutture Adesso occorre l'autorizzazione, il SIP arriva a maggioranza E poi si parla di 1.300.000 euro per il recupero del patrimonio danneggiato dall'alluvione Con una legge approvata all'unanimità, ma si parla anche di 300.000 euro per l'ottantesimo anniversario E la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste per la festa della liberazione La proposta è stata approvata a maggioranza E andiamo quindi subito nel vivo del nostro appuntamento dedicato al Consiglio regionale della Toscana Parlando di questo sì a maggioranza che è arrivato con 21 voti favorevoli Quello del PD e di Italia Viva e 5 contrari Fratelli Italia, 9 astenuti, 5 Stelle e Lega Alla proposta di legge riguardante le distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione L'atto nasce dalla convinzione che sui servizi sociosanitari Siano necessarie una programmazione in relazione alle esigenze dei cittadini Nasce da una razza precisa e cioè quella di riacquisire una governance pubblica Della programmazione degli interventi per la non autosufficienza Tant'è che il contenuto, quello fisso che rimarrà di questa norma È l'applicazione del decreto legislativo 502 del 93 Che prevedeva la possibilità delle regioni di introdurre una verifica di compatibilità Delle nuove strutture residenziali e semiresidenziali Cosa in Toscana non era mai stata fatta ma che ora con questa norma introduciamo E infatti un articolo della norma che abbiamo appena approvato Dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi Che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese Noi abbiamo bisogno intanto per esempio che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano E che i servizi siano differenziati Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri di urni Di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma Ma con una serie di aiuti e di servizi Insomma c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando Fermo restando questo che è il contenuto della norma Poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice Finché non c'è la programmazione regionale Non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra La razza di questa è abbastanza chiara Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana Perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone Quindi massimo 80 posti Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse Tutto legittimo però di fatto non paga le tasse Questo è lo stesso sistema Si elude questa norma E allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno È evidentemente falso Chi dice che questa norma transitoria voglia in qualche maniera combattere gli imprenditori E ostacolare gli imprenditori che vogliono legittimamente investire i privati e vogliono investire in Toscana Tutt'altro questa norma non limita minimamente la possibilità di un investitore di fare un RSA di 80 posti in qualsiasi parte della Toscana È un impianto di legge che ci convince che abbiamo sostenuto e votato Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi Questa è la finalità e anche la sostenibilità Il sistema dell'RSA a Toscana ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento Ma anche normativa che mettono nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture E fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso E sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della regione precedentemente Un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA Che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio Però dobbiamo andare a monte della questione Perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi Sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana Che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone Che vada a guardare anche alla loro quotidianità E che quindi non si riduca semplicemente a costruire O a prevedere di costruire strutture per ammassare luoghi grandi o piccoli Una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema Quello delle RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe Per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA All'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti Che riguardavano ad esempio aree degradate Che riguardavano le strutture all'interno I servizi che riguardavano Per cui praticamente hanno allargato il percorso E secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale A tutt'altre funzioni e mansioni Per cui noi ci siamo astenuti contro Perché il voto di astenzione io non lo concepisco Vi dico proprio la sincera verità Perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere Ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte Allo stravolgimento di una PDL E abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione Così non è avvenuto Ci siamo astenuti Ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa Il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono Così come è detto che grande sia cattivo Noi pensiamo che buono sia buono E da questo punto di vista Specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce In un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani Ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne Dove ci sono gli strumenti della modernità Che siano palestre degnitose, piscine Ma anche connessioni internet Anche sale per collegarsi dal remoto con i parenti che stanno allontani da casa Quando non possono venire a trovare la persona anziana Che ci siano corsi di computer Che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto Quello che la modernità offre Le strutture attuali, molto spesso, non sempre per fortuna Sono strutture non adeguate, strutture al limite della fatiscenza Dove la palestra magari viene fatta sul ballatoio delle scale E questo non è un buon servizio per i nostri anziani, per la nostra religione Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga Aprendo anche la concorrenza Viva la concorrenza E in questo modo stimolando gli attuali gestori Che fanno già un gran lavoro Comunque adeguarsi e stare al passo con i tempi C'è stata unanimità nel palazzo del Pegaso Sulla legge che destina una parte dell'avanzo di bilancio del Consiglio regionale Per il ripristino del patrimonio culturale e storico Danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023 Che hanno colpito la zona dell'Alto Mugello I territori delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno, Pisa Ma estesa anche poi all'area di Massa, Carrara e Lucca La legge proposta dall'ufficio di Presidenza Eroga contributi nel limite massimo complessivo di 1 milione e 300 mila euro Ai comuni che presentino progetti finalizzati a promuovere La valorizzazione del patrimonio culturale e storico E' una proposta che ho voluto con forza Subito dopo l'alluvione con l'avanzo di amministrazione Abbiamo deciso di sostenere iniziative volte a recuperare Patrimonio artistico, culturale della nostra regione 1 milione e 300 mila euro per dare risposte a chi ha avuto danni dal punto di vista artistico-culturale Noi viviamo un tempo molto complesso Tante richieste da parte delle cittadine e cittadini A cui la Giunta sta provando a dare risposte nella maniera migliore possibile Noi invece abbiamo voluto focalizzare l'avanzo Per cercare di aiutare per esempio a chi ha avuto una biblioteca danneggiata Perdere i libri vuol dire perdere un pezzo della nostra memoria Della nostra storia E noi abbiamo deciso di mettere queste risorse E sono contento che sia stata approvata all'unanimità dell'Aula Per quanto riguarda il patrimonio culturale Ecco noi abbiamo visto approvato provvedimenti E visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale Abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale Perché la cultura non è un lusso Non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere A seconda dei momenti Ma per le istituzioni è il dovere di provvedere i cittadini Con fattori di ispirazione Con l'aria che si respira poi Perché questo è la cultura E non ci dimentichiamo che nei comuni soprattutto più piccoli I luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri Sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità E quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso Per le nostre comunità così duramente colpite Durante le alluvioni dello scorso autunno Abbiamo votato favorevole per i soldi dati Per l'alluvione Perché riguardano le biblioteche, i teatri Tutte quelle zone dove le persone si ritrovano E quindi sono importanti per la loro memoria Per la loro identità E per la loro storia Sostegno alle iniziative per la celebrazione Dell'ottantesimo anniversario della liberazione Della gran parte del territorio toscano Per la commemorazione delle vittime Delle stragi nazifasciste L'Aula ha approvato il provvedimento Con 24 voti favorevoli Quello di PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle Ci sono stati anche 7 astenuti Fratelli d'Italia e Lega La legge prevede la concessione dei contributi Uno tanto un fino al limite massimo complessivo Di 300 mila euro per l'anno 2024 Che avviene dopo la presentazione di un progetto definitivo Specificato come questo Però non debba contenere alcun riferimento A partiti politici, a organizzazioni politiche A messaggi di odio, di violenza E soprattutto a messaggi pubblicitari Questa è una norma che io ho voluto con grande forza 400 mila euro perché il PROS quest'anno È l'ottantesimo anniversario dalle tante stragi nazifasciste Che hanno segnato la storia della nostra regione Dell'ottantesimo anniversario della liberazione Per dire che la Toscana non si volta dall'altra parte Per dire che serve continuare a ricordare Perché quello che è accaduto non accada più È perché da quel tempo Noi dobbiamo portarci l'esperienza L'esperienza di costruire un mondo migliore Quello che è accaduto non deve accadere più E noi dobbiamo spiegarlo Raccontarlo alle ragazze e ragazzi In quel tempo tante donne e tanti uomini Hanno donato la loro vita per noi E se noi oggi siamo cittadini e cittadini liberi Lo dobbiamo al sangue che loro hanno versato E per questo ho voluto con forza questa norma Per sostenere iniziative dei comuni E delle tante associazioni che ogni giorno Si impegnano sul territorio Un altro provvedimento che stanzia questa volta 300 mila euro per aiutare i comuni E le associazioni e le istituzioni Che vorranno dedicare le loro iniziative A sostenere e a promuovere la memoria Dell'ottantesimo anniversario della liberazione Delle stragi nazifasciste Noi crediamo che oggi come non mai Sia indispensabile fare un lavoro Di conoscenza della storia E di custodia della memoria Perché la cosa più pericolosa Non è la cattiveria oggi La cosa più pericolosa è l'ignoranza Lo è stato in passato E se oggi possiamo dire di non aver assistito In questi 80 anni A niente di simile Beh, devo dire Siamo stati anche fortunati C'è da che essere ottimisti Perché gli elementi di salvaguardia Le barriere contro questo male strisciante Banale, come è stato definito Anche da menti illuminate nel Novecento Un male che è nato più dalla mancanza di pensiero Che dell'adesione consapevole A una dinamica malevola e cattiva Ecco, noi dobbiamo proteggere i nostri cittadini Soprattutto i più giovani dall'ignoranza I fatti di Milano della scorsa Di questi giorni lo testimoniano Ce n'è ancora bisogno Si usano a sproposito parole Slogan, formule, nomi Senza collegare l'esatto contesto In cui quei nomi, quelle hanno operato Quei fenomeni si sono sviluppati e sono cresciuti La scritta Viva Hitler sul murale di Milano È una spia importante di questo Ecco, allora il Consiglio regionale della Toscana Con i suoi mezzi ha deciso di investire Su quei valori che sono anche alla base Del nostro statuto regionale, all'articolo 3 Questa è un'istituzione che si riconosce in quei valori Per questo devo dire che stupisce L'astenzione di tanti consiglieri Perché non stiamo parlando di una priorità come le altre Di una cosa buona tra le altre Stiamo parlando di valori che costituiscono l'identità Di questa istituzione Di cui essi fanno parte Ecco, mi sarei aspettata davvero un'adesione corale Unanime a questa proposta di legge Non c'è stato il nostro voto favorevole Ma non perché non siamo favorevoli a questa ricorrenza Anzi, ai giorni d'oggi Tutto quello che succede in giro Ancora di più c'è bisogno di queste commemorazioni Perché noi volevamo Che tutti i soldi dell'avanzo del Consiglio Fossero utilizzati per l'alluvione E che per l'ottantesimo anniversario Eccetera Si ricorresse alla festa della Toscana Avrebbero avuto gli stessi soldi Con un altro tipo di finanziamento E si conclude anche il nostro appuntamento Con Dentro il Consiglio Vi ricordo per le informazioni Gli approfondimenti Le delucidazioni C'è il sito www.inconsiglio.it Io vi aspetto come sempre tra sette giorni Sempre qua Dentro il Consiglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti